Veterano del cimento invernale, feroce dei fiedi caruggi, tu come tutti gli altri, viene che tu, viene che tu, i fiedi caruggi sono rappresentati egregiamente anche quest'anno. Cosa vi spinge a buttarvi in acqua? Ci spinge che abbiamo un fisico bestiale, di quei proprio feroci cosiddetti, perché purtroppo ce n'è più pochi di Albenga e noi siamo rappresentanti di Albenga e dei fiedi caruggi che hanno un fisico veramente roccioso. Confermo. 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 E questo è un po' il segreto che vi spinge a buttarvi, giusto? Sì, è vero, è questo. Io per essere sicuro, per essere sicuro di farcela oggi, l'altro ieri ho provato a fare il bagno, ci sono riuscito e adesso continuo. Ah, ma allora feroce fai il bagno d'inverno abitualmente. Come gli orsi. Si tiene allenato, si tiene allenato. Anche tu? No. Allora in bocca al lupo ragazzi. Un salutone a tutti e grazie, ciao.